Cari amici ben arrivati su riflessioni fotografiche il canale dedicato a chi ama la vera fotografia la vera fotografia nel senso fatta dalle persone e per le persone lo diciamo sempre in questa epoca di intelligenza artificiale Roberto anzi di deficienza artificiale come la definisco io insomma parlare di fotografia e il piacere anche di fotografare di sperimentare eccetera è sempre un grande piacere insomma è per questo che è nato questo nuovo canale magari ci avete conosciuto su promiros che ovviamente siamo presenti anche in promiros è sempre il nostro canale però abbiamo voluto distinguere un po le attività di divulgazione insomma i contenuti tra i due canali allora inauguriamo Roberto la rubrica imparare guardando i mestri della fotografia sul canale riflessioni fotografiche con un autore e ci abbiamo pensato abbiamo scelto erano un po un po indecisi poi la fine della scelta è stata univo è stata sì è stata assolutamente condivisa su us ernest us perché perché ragazzi secondo noi questo grande fotografo incarna perfettamente il concetto di fotografia e di fotografo cioè come colui che vede quello che gli altri non vedono quello che le persone normali diciamo non fotografi non vedono perché questo non perché abbia delle doti stratosferiche in questo caso di ass sicuramente aveva un occhio incredibile non è neanche una persona paranormale no esatto è una persona semplicemente che sapeva vedere come vede la macchina fotografica e sfruttava le caratteristiche se vogliamo anche i limiti della macchina fotografica o della pellicola utilizzata ma insomma ne parleremo durante il video per creare delle opere incredibili e con la propria visione soggettiva no anche perché è un passaggio quello di imparare a vedere con la macchina fotografica è un passaggio principale uno dei passaggi basilari e difatti nel corso composizione fine art l'abbiamo messo come primo capitolo appunto per perché se non capisci non sai come vede la macchina fotografica di fatto sei ciecato questo è un po' il succo del discorso allora detto questo entriamo nel merito del video